Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 7 dicembre, Sant'Ambrogio, ed è la Giornata Internazionale dell'Aviazione Civile. Giornata che ha lo scopo di rafforzare la consaporezza mondiale dell'importanza dell'aviazione civile internazionale per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati. La ricorrenza è stata istituita nel 1996 dall'ONU con l'obiettivo di porre l'attenzione sull'aggiornamento delle norme e sulla sicurezza dei voli a livello globale. Questo giorno è stato scelto in occasione dell'anniversario della firma della Convenzione di Chicago del 1944, nei quali furono fissati i principi fondamentali dell'aviazione civile e del trasporto aereo mondiale.